La Call for Idea Food is Zero Sprechi nasce dall'interesse che la Fondazione Cariplo ha da anni verso i temi dell'economia circolare e della sostenibilità, ma soprattutto nasce dall'attenzione della food policy verso le tematiche del recupero delle eccedenze alimentari e dello spreco. La Call for Idea Food is Zero Sprechi è dedicata a tutti quanti gli operatori che animano il sistema alimentare della città di Milano e che da sempre si occupano di recuperare le eccedenze alimentari. In particolare con questa Call cerchiamo di stimolare lo sviluppo di idee innovative che siano in grado di favorire il recupero del fresco, così da poter raggiungere anche le famiglie che si trovano in difficoltà e in condizioni di fragilità. La quarta priorità della food policy del Comune di Milano è la lotta allo spreco alimentare. Dal 2015 la food policy ha all'attivo diverse azioni e progetti per ridurre gli sprechi e ridistribuire le eccedenze. Perché Foodi il mercato agroalimentare di Milano? Perché Foodi è la città del fresco con i suoi quattro mercati, il mercato ortofrutticolo, il mercato ittico, il mercato delle carni e il mercato dei fiori. Un milione di tonnellate all'anno di prodotto commercializzato, 170 grossisti con punto vendita e 90 produttori agricoli locali. Ma Foodi è anche il recupero delle eccedenze alimentari, lotta agli sprechi. Ogni anno circa 50 associazioni ci permettono di recuperare più di 1.500 tonnellate di merce. E nel 2020, in accordo con la food policy del Comune di Milano, nei mesi di aprile e maggio abbiamo portato avanti un importante progetto che ha permesso alle famiglie più bisognose di ricevere circa 140 tonnellate di frutta e verdura fresche. La Call for Ideas Foodi Zero Sprechi è online fino al 31 gennaio. È possibile partecipare seguendo tutte le informazioni che trovate sul sito di Fondazione Cariplo o di Food Policy. Inviateci subito il vostro progetto. Grazie. Grazie a tutti.